Dami, dammi foto di Gia, è un resma! Vieni il mio filiero? I love it. I love your swing. I will see you soon. Ok. 1, 2, 3, 1, no, eh. Davies Fallwater. Quando vi c'è un rai, mi piace il nostro hotel. Non lo so, 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 non lo so. Non lo so, 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 non lo so il nostro corso il nostro corso gratuito una strada del palazzo 80-fec-fec che in mangiare così, mi mangiare, mi mangiare, si è una strada del palazzo 80-fec, mi mangiare, mi mangiare, si è un po' che ci sono i più, mi mangiare, in questo modo, si è un po' che non si è l'unico stesso tempo. E il bel calca, non ci sono ancora in mangiare, dopo 300 ore di lavoro, 300 ore? sì, we are very close to Sivazigo Temple, Big Murthy 300 hours of walking I was here and I was in construction I was in construction So first time I was in the dream city I was in the dream city I was in the dream 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 city I opened the dream I had this dream I were in the dream city Even this dream I was in the dream city I was in the dream city But there is a big glass house in the dream city I was in the dream city I have a dream But I am very surprised I just had a dream After I had a dream ahahahah ma la tua manpowerio mamma come on let's go emailed oh 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 yeah oh 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 where is it where is it oh 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 baby come and pray do you want to pray? do you want to pray? oh 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 yeah finally we are outside oh wake up oh we are we are getting out of here we are some good thank you thank you we have a lot of photos we have lots of photos from the we are here come andiamo a fare un nuovo blu come andiamo a fare un colore come andiamo a fare un colore yellow, yellow, red blu, green, purple yellow, orange, red come, come, come come, come so many flowers we come andiamo a fare un Indonisia come andiamo a fare un'artificial the highlights, GDAM come andiamo a fare un generale come andiamo a gaze asciutto una sorta swing and $750 come andiamo a fare un' Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 no noi siamo più che cosa è questo? c'è un frizzone c'è un frizzone? c'è un frizzone non ci sono tutti voi ohhhhhh chi vuole prendere un film? c'è un frizzone questo non è l'acqua la c'è un frizzone bellissono maschina o cosa si asi cosa si stia? stia 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 Telescop 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 Wow 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 Very nice No 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 You Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 sono andati sono andati qui sono andati qui sono andati cilindri open air i miei amici sono andati rinnovate mamma è helpi c'è la parte c'è la parte c'è la parte c'è la parte wow 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 hello come le ho 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 so i sono vediamo 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 wow Wow... I love it. I love your swing. I will see you soon. Repeat it. I love swinging, swinging. With so many flowers around me. With Hyatt baby. Oh hi hi say hi to everyone. Thank you. Bye. I love you. I love you. I love you. I love you. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. 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 Sì.